Oggi con noi una contessa, Anna Maria Calvi Orsini, la cui dimora ha dato l'avvio alla Biennale di Poesia di Alessandria, che quest'anno ha una formula diffusa, andando anche a coprire le province di Como e di Piacenza, raggiungendo quindi oltre Alpi e Monte anche l'Emilia e la Lombardia. Buonasera contessa, benvenuta, come sta? Grazie, buonasera Luisa, buonasera a tutti gli amici di Poetando e di Rete 55. Grazie per aver dato l'avvio l'8 di maggio nella sua dimora di piovera nei pressi di Alessandria, proprio a questa nuova formula della Biennale di Poesia, quindi ha ospitato un evento poetico, era la prima volta? No, è una consuetudine quella di ospitare questo evento poetico che ha iniziato già negli anni 90 con la Biennale di Poesia di Alessandria, Il castello ha una vita molto lunga, che è iniziata su accampamenti romano e carolingi e poi nasce nel Medioevo come fortezza costruito dagli sconti di Milano.